Salve a tutti e benvenuti ad una nuova recensione Lampo dello spettatore sul film Fablemans di Steven Spielberg. Che dire ragazzi, anche questa volta Spielberg non ci ha delusi, regalandoci una delle sue più intime pellicole, una sorta di autobiografia dove racconta la sua storia, la storia della sua famiglia e del suo incontro e del suo innamoramento verso l'arte cinematografica. Infatti la storia inizia dalla sua prima esperienza in sala, anzi fuori dal cinema con suo padre e sua madre che cercano di tranquillizzarlo perché ha molta ansia. Tra l'altro i genitori sono interpretati da Michelle Williams e il padre da Poldano che fanno un lavoro magistrale. Io sono anche un po' innamorato di Poldano, come immagino tutti, quindi se volete vedere un'altra sua ottima interpretazione fiondatevi a vedere questa pellicola. La trama si divide in due sviluppi, come ho accennato prima, l'amore del protagonista per il cinema da quando prende in mano la sua prima videocamera per emulare una scena che l'aveva molto spaventato fino alla realizzazione dei suoi primi corti con una scena finale che chiude questo cerchio. Veramente, veramente incredibile ragazzi. Non voglio spoilerarvi nulla ma vi dico solo che c'è David Lynch che fa una parte, fa un personaggio importante, particolare. Diciamo che è un regalo perfetto per ogni cinefilo, Spielbergone ce l'ha voluto fare e noi lo ringraziamo molto. Invece dall'altro lato della medaglia c'è la famiglia che è importante e fondamentale per la crescita e lo sviluppo psicologico del piccolo Sammy e come ogni famiglia che si rispetti passano momenti felici e momenti di assoluta disfatta. La cura nella descrizione e nella caratterizzazione dei personaggi è veramente maniacale. Ognuno di loro vi farà innamorare e non c'è niente, non ci sono personaggi che fanno solo scelte giuste o solo scelte sbagliate, palesemente egoistiche o intoccabili, anzi ogni personaggio è grigio. E tra l'altro c'è anche Seth Rogen che fa l'amico del padre, l'amico di famiglia insomma, che fa una parte bellissima, super drammatica, mi è piaciuto tantissimo. E mi fermerei qui, sì mi fermerei qui, non c'è bisogno di dire altro. Mi raccomando, se volete una recensione completa di qualche film me lo potete scrivere anche nei commenti, non vi mangio e ve la sparo senza problemi veramente. Per ora mi fermo qua con questa recensione lampo, consiglio a tutti di andarlo a vederlo al cinema perché è proprio un'esperienza ovviamente pensata per la sala, perché c'è tanto amore, tantissimo amore per l'arte cinematografica. Un film fatto con il cuore. Insomma, non ve lo fate scappare. E con questo è tutto, ci sentiamo alla prossima recensione lampo dello spettatore. Buone!